Vediamo cosa c'è all'interno del nostro box. Stasera ho l'assistente. Quindi è pizza, patate e zucca, credi, anche salsiccia. Vediamo l'altro trancio. Ah, zucchine. Buona. Il prezzo ve lo dico all'ultimo. Mortadella e pistacchi. Alziamo i padella e i pistacchi. E per ultimo, io già so cos'è, abbiamo anche la colazione per domani mattina. Tutto questo cibo per 5 ricchi euro. Grazie all'applicazione di Too Good To Go.